segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te parlare del merito esatto noi abbiamo visto il 40 per cento di renzi 35 di salvini delle leadership che hanno avuto dei grandi successi alle europee e poi diciamo hanno avuto delle brucianti sconfitte nazionali dopo insomma si sta sovraccaricando molto perché la politica italiana vive un po in una bolla avulsa dal mondo quindi nella puntata contestualizzato che una puntata che è andata in onda ieri bisogna dire che l'ashline è stata brava ha avuto una sua efficacia è stata molto puntuale nelle critiche sul tema scelto che era la sanità a meloni diciamo amministra il vantaggio nel senso che poi sai ieri mi colpiva vedere le è un question time le domande degli alleati che diciamo tra l'altro avvantaggio un po chi pone l'interrogazione no perché ha il diritto di reti ma non erano domande erano assist cioè gli alleati le tirano la volata ora è la è quello che raccontiamo tutti i giorni no cioè di un governo che non ha dei reali competitori all'interno e un'opposizione abbastanza fragile diciamo se non inesistente la cosa che mi che mi ha colpito diciamo così è che l'ashline è stata brava ma la meloni a livello epidermico proprio a pelle che tu la vedi nella fisiognomica provando a guardare da lontano le smoffie no sai lei soffre da morire conte e non è un caso infatti che lei si sia scelta shline non è un caso che si sia scelta shline perché se io scelgo un mio competitore evidentemente non lo temo no non ho mai visto uno così masochista da scegliere uno che esatto perché perché conte è populista come lei effettivamente conte nel suo intervento ha fatto a populista populista e mezzo no e c'è anche una contiguità elettorale in un certo voto c'è una contiguità elettorale in un certo modo anti europeista conte è quello che comunque fece i decreti sicurezza con salvini non è quello che sugli immigrati alla linea umanitaria no diciamo accogliamoli tutti eccetera eccetera quindi lei lo riconosce più simile e in questo quindi lo soffre evidentemente più e non è un caso infatti che poi abbia scelto di polarizzare sulla shline la shline ha una ha un'occasione in questo perché è chiaro che lei si gioca molto contestata da un pezzo del suo partito sotto pressione per la vicenda delle candidature finora l'ha sbagliata la gestione tattica diciamo perché si è fatta mettere in trappola. Ieri però l'hai vista? Ieri l'ho vista più si vede che sente di più la partita ieri l'ho vista sai è entrata da sola molto concentrata col foglio degli appunti è stata molto precisa aspetta aspetta facciamola rivedere noi l'abbiamo seguita in diretta ieri ma facciamole rivedere shline meloni l'abbiamo seguita in diretta